Il risultato che era indispensabile oggi ci voleva e abbiamo tirato fuori anche una prestazione di livello alto. Potevamo fare anche altri gol. Chiaro che siamo molto amareggiati per quello che è stato prima di adesso, ma dovete credere, si è lavorato con tanta intensità, con tante situazioni particolari. Io non ho mai avuto tutti questi problemi insieme. Anche oggi avevamo sette giocatori fuori. Prima della partita mi viene meno volare. A fine primo tempo mi esce Frank dal campo per una botta al ginocchio. Speriamo niente di grave. Però i ragazzi stanno lavorando veramente bene. Era la partita che ci voleva e questo deve essere un punto di partenza. Adesso con grande cattiveria affronteremo le prossime partite perché comunque secondo me abbiamo risolto tanti problemi. Tanti problemi è chiaro che adesso ci porteranno anche a fare tanti risultati. Questo campionato bisogna avere la capacità di lottare, avere la capacità di non lasciare niente al caso. Anche oggi, nonostante che abbiamo avuto tante occasioni da gol, però fino alla fine abbiamo dovuto soffrire, stringere i denti e penso che comunque i ragazzi se lo sono meritati. Ma è stata tutta la squadra che ha lavorato come doveva lavorare, soprattutto in una partita difficile come quella contro Cittadella che sembra una squadra molto temibile, molto organizzata sui loro concetti. Quindi in linea di massima sono veramente contento per i ragazzi. Di Sadiu vediamo, incrocio le dita perché chiaramente ne avevamo sette fuori oggi. Adesso dobbiamo andare un passo alla volta perché io veramente ho provato mille soluzioni da quando sono arrivato, ho provato tantissime alternative, tantissime... Adesso dobbiamo ripartire con semplicità nelle cose che abbiamo fatto bene e prendere coraggio da quelle cose che abbiamo fatto bene e quindi esaltarci anche con i gol che abbiamo sbagliato perché creare tanto come abbiamo creato oggi è un qualche cosa di molto importante e ci deve dare energia per cercare la prossima partita di farne di più. Chiaramente dobbiamo essere incisivi davanti però per essere incisivi bisogna diventare squadra come siamo stati oggi e lo dobbiamo fare per tutte le partite. Ma guarda, fa piacere sta domanda perché noi sotto quell'aspetto lì abbiamo tantissimo tantissimo da migliorare. Oggi effettivamente si è visto qualcosa però dobbiamo avere la capacità prima di diventare squadra, prima di essere una squadra solida e poi andare a lavorare sui concetti miei, sulle situazioni in fase di possesso palla. Oggi siamo andati molto sul semplice con delle situazioni che sapevamo, che trovevamo a portata di mano. Quindi i ragazzi l'hanno fatto con semplicità ma soprattutto con molta efficacia. Quindi io spero che man mano che si va avanti si arriverà ad avere più sicurezza e più tranquillità per poter fare ancora meglio la fase di possesso palla. Perché dovevamo prendere soprattutto fiducia, dovevamo prendere soprattutto tranquillità ed è una scintilla che ci serviva. Adesso non dobbiamo farcela sfuggire per le prossime partite.